Gli imprenditori cercano lavoratori stagionali, additando spesso il reddito di cittadinanza come cuscinetto troppo comodo perché ha poca voglia di lavorare, ma uno studio invece dimostra che in realtà i giovani sarebbero sottopagati. Lo studio prende in esame tutti i lavoratori dipendenti del settore turistico della provincia di Ecce, in particolare quelli che operano nel comparto dell'alloggio e della ristorazione. E' emerso che in provincia di Ecce ci sono 28.506 posizioni lavorative con un reddito medio di 6.460, un importo molto basso condizionato ovviamente dalla stagionalità del settore, perché noi abbiamo un periodo di giornate riduite nell'anno che si ferma appena 135, vale a dire 4 mesi e mezzo è il tempo nel quale molti lavoratori sono impiegati e pochi invece riescono a proseguire nel loro rapporto di lavoro perché le attività riescono a fare quella agognata destagionalizzazione che probabilmente la nostra provincia deve ancora maturare per arrivare a risultati raggiunti da altre mete turistiche.